Ottava corsa, premio Scellino, un miglio per anziani in categoria FG riservato agli allievi all'1 Schubertor, al 2, 0 Tondo Zanna, al 3 Ubaldo Meni, al 4 Zara Skol, al 5 Zwicky Fox, al 6 Spiritasolo, al 7 Unetta di Casei solitario in seconda fila con il numero 8 Zellig Jet si ritrae intanto Unetta di Casei col 7 quando mancano 100 metri o poco più allo stacco la macchina che accelera lascia i concorrenti C'è lotta per il comando, poi sbaglia Zara Skol che stava acquisendo il comando delle operazioni e rimane davanti Zwicky Fox che è il leader nei confronti di Ubaldo Meni all'esterno Spiritasolo in corda Schubertor, poi via via gli altri con una tersiglia a chiudere il gruppo Zwicky Fox che così completa la curva e il primo quarto di gara saldamente al comando 400 metri in 29,6 davanti alle tribune cerca di moderare l'andatura il suo interprete trascinandosi sempre Ubaldo Meni per linea esterna Spiritasolo che va ad accompagnare Ubaldo Meni 600 nell'ordine del 46,2 seconda pareglia per il numero 8 di Zellig Jet la terza per il 7 di Unetta di Casei quando siamo prossimi alla metà gara che Zwicky Fox copre nell'ordine dell'1, 2 e 8 ora di fronte posizioni che per il momento non mutano anche se cerca di farsi più vicino adesso con il numero 7 Unetta di Casei che si scopre subendo però l'anticipo da parte di Zellig Jet con in seconda corsia Spiritasolo in tre che cercano di andare su Zwicky Fox che ovviamente accelera 1,18 e mezzo il chilometro quando si va adesso ad affrontare la piegata conclusiva con Zwicky Fox ancora in controllo Zellig Jet all'esterno che però va ad attaccare seriamente il battistrada i due favoriti annunciati che sembrano giocarsi la vittoria in dirittura d'arrivo con Zwicky Fox all'interno Zellig all'esterno più indietro gli altri prova ad emergere Schubertor Zwicky Fox che sta allungando da Zellig Jet e Zwicky Fox che se ne è andato da Zellig Jet e viene a concludere nel migliore dei modi Zwicky Fox, Zellig Jet per il secondo e poi al terzo posto dovrebbe essere il numero 3 di Ubaldo Meni andiamo a rivedere le immagini gli ultimi metri 2,2,6 il tempo totale 44 a chiudere per Zwicky Fox e Daniela Montanile che va così a rispettare quello che era il ruolo di favorito il training di Catello Saurese i colori della signora Laura Pallotta Zwicky Fox il 5 al primo posto a precedere l'8 di Zellig Jet e ancora il numero 3 di Ubaldo Meni è tutto per questa ottava corsa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti